Ciao a te ragazzi, io sono l'unico e solo e oggi dopo un botto torniamo su Minecraft Allora, l'unico e solo, sopravvivenza Sì ragazzi, io non uso i miei altri mondi perché sono roba... Cioè, no, i miei mondi, io sono i miei mondi E Massimo si vi verrà chiesto, ma tanto non credo che qualcuno me lo chiederà Però, se qualcuno me lo chiedesse, io nel dubbio, i miei mondi sono lì E... alcuni l'ho persi perché tempo fa ho dovuto cancellarli per via dello spazio Ma, a parte quello, quelli che ho adesso, sono più figli E... ho assicuro che ci si farebbe comunque del ridere Sai, io non so perché ma... Di nuovo qui Sicuramente sarò senza armatura Ma proprio, sono sicurissimo Nella vita, io Ah, è vero Io, io ho senza armatura Io, io ho senza inventario, senza niente Io ho anche dei buchi sulla casa È una cosa incredibile, cioè Ogni volta entro su questo mondo E mi sono perso tutta la mia roba Ah, eccola Ah, c'è il remoto Allora Ho appena, non so come Recuperato tutta la mia roba E... Tanto vediamo se c'è del legno Non ve lo faccio Semplice Perché non ce l'avevo Allora, ragazzi, abbiamo il legno E oggi voglio assolutamente Perché mi sono rotto le balle di stare qua Non fa niente Quindi adesso Un po' quitare così a caso Allora Adesso Costruirò un piccone E andremo a miniera Vai chiedendo Il tetto Perché non è mai carino Il tetto all'aperto Cioè, capisco di Magari la notte Dici, voglio guardare stelle Ma Difficile che uno voglia guardare stelle di notte Quindi, direi che Allora Facciamo un altro piccone Così sono sicuro che Che mi duri abbastanza La potevi prendere la pietra Togliamo tutto Ok, allora Su Innanzitutto io qua ci ho fatto Un bellissimo orticello All'ombra Non so perché all'ombra Però Alle volte non c'è neanche da chiedere Possiamo iniziare Ad andare In miniera Potremmo Vorremmo Ma sono scemo Sono capace Tirando fuori Delle tavole Come faccio ad andare in miniera Se non sono manco capace A Non è possibile Matematicamente Allora Qua c'abbiamo un piccone Qua c'abbiamo il secondo piccone E qua il terzo piccone Non mi servono tra piccone Di legno Quindi li bruciolo dopo Per forza Io sto spaccando la tarra Con il piccone C'ha I più grandi Maestri di minecraft Mi adiranno Ma tanto Non vedranno mai Questo video E lo spero per loro Perché Se no gli verrà Un infarto pazzesco Io avevo visto Comunque Del carbone Qua E non ho sbagliato Il carbone C'è veramente Si dico Farsi due torce Per andare in miniera Sempre il meglio Perché se magari Si trova una miniera Già scavata Almeno Si hanno le torce Da piazzare Da qualche parte E poi Per non parlare Magari di piazzare Qualche torce C'è davanti La casa Cioè qua sotto C'è una miniera Cioè io stavo scavando In casa Figo Allora Tiriamo fuori Tutta la roba Facciamo una Scalinata Non so perché Ho fatto Quella file Ma non me lo chiedete Non me lo chiedeva Nessuno Proprio C'è nella vita Non si chiede Un certo Allora Torcia Picozza Ci metterò le vite Con questa piccozza In legno Tirare fuori i materiali Purtroppo Minecraft Secondo me È la serie Più noiosa Perché quando ci gioco Io mi diverto Ma perché Però Diventa noioso Magari da vedere In gameplay Cioè C'è gente Che lo riesce a rendere Meno noioso Per il fatto Che non è Che giocano Proprio La versione Giocano Fanno la sopravvivenza Magari giocano Dei livelli Già fatti Seguono la storia Quindi Viene più carino Ma io Purtroppo Queste cose qua Non le faccio Cioè Sono una persona brutta Allora Avrò detto allora Qualche volta In questo video No perché Non me ne ho reso conto Cosa dobbiamo Prendere la pietra Sono potentissimo Adesso Il pietra Con la pietra Mi ci faccio La spada Il piccone E andiamo a picchiare Tutte le bestie fuori Tutte Tutte le andiamo a picchiare C'è già il ferro Posso già No non posso Perché non si spacca Crafting table Crafting table La piazziamola a qualche parte Facciamo questo Piccone Che spada In pietra Ma ne fatti i piccoli Io voglio due Di piccoli In pietra Grazie Ah Certo Ah beh A parte il fatto Che sono scema Non mi ricordo manco Quando faccio i picconi Perché me li scordo Due secondi dopo Ma va bene Così C'è una finta Di niente Mi vorrete bene Comunque Allora Qua stiamo tirando fuori Un botto Un botto Una mazza Perché Due robette di ferro Allora Di qua Ok Stesso discorso Non riuscire A salire C'è una rampa È impossibile Salire Scendere Sana Discendi Fai la scala Cioè Io mi chiedo Perché abbiano aumentato Un gioco del genere E io soprattutto Mi chiedo Come faccia Piacere di più Il mio gameplay Di minecraft Che quello di Underschool Che era più divertente Ma va bene Così c'è Di gustibus Tanto Carbone 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 Mi sento In botto Sardine Nel dubbio Sì perché Se voglio Fami un piccone In ferro A parte che Io sarò un genio E sicuramente Lo vorrò fare Qua miniera Un piccone In ferro Quindi Teniamo Spazio Anzi Visto che Sono Visto che Già mi prevedo Chef Cracco Però nell'angolo Cottura Deve starci La fornace Ma se io Non ho Gli elementi Ma se io Non ho La crafting table Esattamente La fornace Come la faccio? Ascia di legno Portiamoci Che la crafting table Ammazzo Allora Di qua Ok Sta qua Diciamo La La fucina Piazziamo Una crafting table Con la crafting table Ci faccio Una mazza Perché mi servono Altri due di pietra Ma Due già presi A questo punto La fornace La possiamo fare Sì, abbiamo fatto la fornace Fatto Ragazzi, faremo un piccone di ferro E andiamo a devastare tutti Fuori dai ball Però come se devo scavare? Cioè, pensavo fosse una minina gigantesca Ho detto, sì, ho trovato la minina gigantesca Andiamo a trovare l'oro, il diamante La redstone Quello che volete voi Ma no, non troviamo niente comunque Ok, qua ci abbiamo il ferro Possiamo farci finalmente un piccone di ferro Anche se è del ferro Cioè, del piccone adesso non ce ne facciamo niente Perché non abbiamo niente da scavare Perché il piccone di ferro Guarda che sto picconando a caso, ragazzi Ma va bene No, non va bene per niente Allora, picconiamo Continuo a picconare 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 Ci sarà una minina sotto Spero Una minina più figa Una minina che mi dia qualcosa Cioè Se no Ma raga Ma l'ho chiamata Ma raga, seriamente? Ce l'ho detto E mi son trovato una minina Che figo Però il problema è che già qua c'erano zombie Quindi non mi piace come cosa Allora E qua Vado per così Tutto il casino che ho fatto prima Ho modificato tutta la minina Sennò sarebbe probabilmente Stata diversa Ecco C'ho più due torce Spiegamo davvero almeno materiali Per farne altre Non me ne frega niente In questo momento Faccio tutte le torce che mi servono Non mi importa Ricordato Mi mancherà Cioè Devo fare torce E qua Ho beccato un botto di ferro Da salivari più bassi Generalmente Devono starci materiali più preziosi Quindi l'oro Ma questo non è il caso Non è assolutamente il mio caso È possibile trovare qualcosa di diverso Dal ferro in questo gioco? No? Vabbè In questo momento Io sono sceso in mini area E Niente Aspetteremo Il prossimo episodio Per trovar qualcosa Il video finisce qui E se vi è piaciuto Iscrivetevi Condividete Mettete like E noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi